Agire nel silenzio. Figli miei, vi racconto il fatto evangelico che ricorda il primo miracolo compiuto da Gesù, prima di iniziare la sua vita pubblica. Ci fu dunque uno sposalizio, e, come si suol fare in quell'occasione, si pensò a tutti i preparativi, perché non mancasse nulla ai convitati e tutti fossero gioiosi. Ma, verso la fine del pranzo, io mi accorsi che mancava il vino. Sarebbe stato assai doloroso per gli sposi di non poter soddisfare a questa necessità, per cui mi rivolsi a Gesù con somma carità e gentilezza, e con tanta fermezza. Fu allora che le giare, preparate dai servi piene d'acqua, furono trasformate in giare piene di vino, del più buono. La società attuale ha bisogno di essere trasformata, ma non sono le strutture o le nuove usanze che portano mutamenti negli animi. È l'amore, è l'educazione, è l'amitezza e la sicurezza delle proprie idee, quella forza misteriosa che fa intervenire il Signore nelle vostre famiglie, nei posti di lavoro e dovunque. Se del mio accorgimento ne avessi fatto una proclamazione, e se Gesù avesse operato clamorosamente anziché nel silenzio, forse lo stesso miracolo avrebbe causato un'umiliazione agli sposi. Così, nelle diverse situazioni della vita, dovete agire voi. Quando vi accorgete che si rovina la vostra opera e si manca di fede da parte di chi dovrebbe insegnarvela, non alzate la voce, agite nel silenzio. Continuate in un altro campo quel bene che vi viene impedito o rovinato. Gesù stesso trasformerà la tiepidezza di molti in fervore, come cambiò l'acqua in vino. Nei vostri ambienti di lavoro, anche il vostro silenzio deve essere una predica. La parola buona, o anche il rimprovero dato con tanta carità a tempo debito, sarà come la delicata carezza di una mamma al suo bambino, e, senza urtare gli animi e senza dare a voi stessi alterigia o presunzione, vi metterà su un piano di superiorità, perché si capirà che le vostre parole vengono dall'alto. In questo mondo che fa della bestemmia e del turpiloquio un'abitudine, voi portate quella grazia che non è finzione o affettazione, ma tradotta in altri termini. È tutto ciò che rende gradita una persona. Siate ferventi come il vino genuino che Gesù offrì alla fine del pranzo di nozze, e avrete la forza di attirare, convertire e salvare molti.